amici di all music italia buongiorno bentrovati in questo nuovo spazio dedicato agli artisti italiani con noi oggi c'è uno dei due ospiti d'eccezione lui è mameli che torna qui a all music italia per parlarci del nuovo singolo che è realizzato insieme all'altro componente di questo duo che ormai possiamo definire un duo a tutti gli effetti l'altro è lorenzo fragola però noi abbiamo qui con noi mameli ciao buongiorno mario ciao ciao a tutti buongiorno prima domanda come stai molto bene nuvolosissima sono a milano anch'io quindi ti capisco una giornata un po così allora siamo siamo qui per parlare del nuovo singolo che è testa per aria un singolo che avete realizzato tu e lorenzo fragole del terzo singolo di questa collaborazione che ormai va avanti da un bel po di tempo voi siete non soltanto due colleghi ma soprattutto due amici e questa unione si sente veramente tanto già con gli altri singoli l'avevamo sentita si consolida sempre di più sì forse con questo si si percepisce ancora di più ma anche perché ci sono dei degli elementi missivi tipo il videoclip dove ci siamo noi insieme almeno questo è quello che mi è arrivato da come feedback da da chi ha visto il video cioè si percepisce proprio che c'è un rapporto umano dietro siamo un duo al momento siamo un duo chi l'avrebbe mai detto nella vita io mai nel mai l'avrei detto però poi queste cose succedono quando ti trovi artisticamente umanamente vicino a un'altra persona che condivide con te delle delle cose noi nello specifico condividiamo da da cose veramente quotidiane quotidiane banali tipo tipo l'inter tipo la playstation tipo catania tipo il giro di di amici dell'infanzia anche altre cose un po più come dire nel substrato tipo cioè tipo l'ansia tipo tipo il terrore che abbiamo nella nostra precarietà nei confronti del futuro e quindi e quindi ci siamo trovati e abbiamo scritto un sacco di cose un sacco di canzoni un bel po di canzoni adesso abbiamo pubblicato questa siamo molto felici di aver pubblicato questa canzone perché per noi è molto importante il contenuto di questa canzone cioè il concetto di questa canzone ma è previsto lo so che magari è troppo presto per parlare oppure già ne avete parlato e non volete svelare nulla io te lo chiedo lo stesso è previsto come si dice in gergo rap un joint album tra tra voi due ma non lo so c'è possiamo fare che in una frase ti dico sì in una frase ti dico no e poi facciamo la media perché non c'è stiamo scrivendo abbiamo tante abbiamo allora abbiamo scritto tanto molto di più di quello che avremmo potuto e dovuto fare cioè nel senso anzi non c'è un dovere però abbiamo scritto tanto e adesso non non lo so poi questa cosa in cosa si traduce o meglio ci si può anche arrivare però secondo me la cosa la cosa importante per noi non è la forma ma il contenuto quindi non è disco non disco è più che altro cercare di far arrivare un messaggio cioè noi ci siamo veramente trovati quando abbiamo scritto quando abbiamo iniziato a scrivere ci siamo resi conto che poi il focus di quello che era la nostra scrittura voleva essere quello che stiamo iniziando a fare con testa per aria quindi raccontare del disagio che hanno le persone della nostra età o la fascia di quelli leggermente più piccoli e leggermente più grandi nei confronti del futuro nei confronti della società nei confronti della realtà nei confronti della competitività che è nata nella società moderna cioè nei confronti di della nostra della nostra ansia di di non sentirci abbastanza all'altezza perché sono delle cose che proviamo che proviamo quindi attualmente siamo in questa fase dove vogliamo che il messaggio arrivi cioè vogliamo comunicare questo messaggio poi se si tradurrà in un disco no per me anche poco importa cioè per me la cosa più importante che arrivi questo messaggio e questo sicuramente è tanto importante guarda di sicuro ci sono già tre canzoni quindi comunque sappiamo diciamo di che pasta siete fatte insieme e per questo poi anche la voglia di sentire altre cose di magari sentire una un progetto completo viene perché chiaramente dopo aver sentito attraverso luna fortuna e adesso anche testa per aria la voglia di sentire di più c'è poi tra l'altro siamo appartenenti alla stessa terra quindi da siciliana siciliani siciliani dove sei tu palermo palermo quindi copriamo copriamo i due versanti questo pezzo noi l'abbiamo scritto con dei ragazzi di palermo molto bravi ragazzi giovani molto giovani di palermo che abbiamo che ho scovato io con altre persone su su soundcloud ogni tanto facciamo dei giri così per sentire anche ragazzi che iniziano a per musica li abbiamo senti ho sentito questo ragazzo mettere un pezzo sul soundcloud detto che madonna che bomba l'abbiamo fatto niente a milano di uno scritto insieme abbiamo scritto anche questo pezzo si chiama antonino si chiama nino e ragazzo e io lo ringrazio perché veramente con lui abbiamo scritto questa cosa lui è riuscito a entrare perfettamente in quello che era il messaggio e ci fa molto piacere perché avendo 10 quasi dieci anni meno di noi ci ha fatto molto piacere sapere che quello che proviamo io e lorenzo che siamo i millenials probabilmente è un contenuto che è condiviso anche magari dalla gen z cioè da ragazzi più piccoli no in questa cosa per noi è stato è stato figo perché vuol dire che non è una cosa circoscritta ma è un pensiero che invece ci accomuna tutti nella coppia chi è dei due che fa il fratello maggiore e chi il fratello minore quello che magari dà più consigli all'altro un giorno io un giorno lui cioè veramente perché ci perché in due la difficoltà di questa cosa è che in due ovviamente quando tu fai musica sei totalmente in preda agli umori no cioè ti svegli la mattina e dici mi ho fatto tutta una merda quello che ho fatto fa schifo adesso lo butto e mi ritiro invece capitano giorni che ti svegli dici che è bomba oh madonna cioè questo disco è una bomba questi pezzi sono una bomba quello che è una bomba quindi ci sono giornate che mi sveglio nero e invece lorenzo mi tiro su e viceversa oppure che abbiamo due bisogni completamente diversi secondo me non c'è proprio un fratello forse forse ci sono dei momenti dove insieme oggi ci riusciamo a spalleggiare in maniera che poi tutto sia più propositivo e positivo che se fossimo da soli in questo momento capito ma sai che quello che stai dicendo effettivamente poi ritorna nella canzone che avete pubblicato perché la voglia di volare la paura di cadere io credo che poi corrisponda proprio a quello che hai detto tu cioè che un giorno hai voglia di spaccare il mondo il giorno dopo però hai paura che questa troppa foga possa sfociare in qualcosa di negativo sì sì assolutamente poi vabbè come dire questo pezzo per noi è esattamente il noi siamo delle persone impaurite siamo delle persone che hanno paura tutti noi abbiamo paura io penso che in questo momento lorenzo ha dichiarato più volte va bene il corso degli ultimi mesi di aver avuto dei problemi di ansia eccetera io sono stato in terapia l'anno scorso per un altro tipo di di ansia che pura fobia che l'ipocondria è questa cosa ce la siamo ce la stiamo detti cioè insieme affrontiamo le nostre paure capito che ora la musica non risolve dei problemi di nessuno però se è il mezzo per arrivare poi a risolvere delle cose più importanti è una cosa bella sì sicuramente può fare da colonna sonora per per alleviare magari diciamo così delle delle sofferenze secondo voi questa questa vostra attitudine chiamiamola attitudine quanto può incidere poi nel concreto nella vita delle persone cioè avete avuto dei feedback che effettivamente tu dal tuo lato e per quello che ci avete raccontato nel corso di questi ultimi mesi di questi ultimi anni avete avuto dei feedback di persone che grazie a voi sono riuscite anche semplicemente a fare un passo verso quella che può essere una terapia un percorso chiamiamolo come vogliamo allora non lo specifico ancora su questo pezzo nel senso che questo questo tipo questo messaggio lo stiamo iniziando a veicolare in maniera forte adesso perché comunque luna fortuna era un episodio estivo era comunque l'episodio estivo delle cose che stiamo facendo quindi a livello di contenuto trova lascia il tempo che trova giustamente poi personalmente mi è successo parecchie volte che trovo messaggi o feedback da fan che mi mandano per dire che mi ricordo adesso la prima che mi viene in mente io ho scritto una canzone che si chiama record tempo fa è una ragazza mi ha mandato la foto del tatuaggio del girasole che c'è su come la copertina del pezzo dicendomi questa cosa mi ha aiutato tantissimo a superare delle cose no quello succede poi chiaramente quando fai delle canzoni quando sei un artista l'obiettivo è quello cioè nel senso non è che l'obiettivo la conseguenza è quella cioè se se tu fai 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 musica fai arte la cosa è comunicare poi con altre persone quindi quello è fondamentale non nella vita di un artista certo ma ci sarà la possibilità di vedervi anche dal vivo per ecco diciamo scambiarsi delle opinioni non soltanto per ascoltare la vostra musica perché poi io credo da da spettatore diciamo così che sul palco voi possiate portare non soltanto le vostre canzoni ma il vostro pensiero quindi magari interagire molto di più non lo so poi come volete gestire un eventuale live se ne avete parlato ci stiamo lavorando nel senso ne abbiamo parlato chiaramente chiaramente ne abbiamo parlato noi cioè per noi allora per noi l'obiettivo perché ancora non ci siamo arrivati ma magari tra dieci minuti ci arriviamo perché abbiamo nelle interviste che facciamo poi chiaramente arriva la domanda ma a febbraio fate qualcosa e noi a febbraio non facciamo niente nel senso che il nostro obiettivo oggi è suonare cioè noi vogliamo suonare insieme abbiamo deciso che vogliamo siamo convinti che quello che abbiamo musicalmente sia forte e vogliamo suonarlo questo è il nostro il nostro obiettivo poi da qui non è che non lo facciamo perché non lo vogliamo fare non lo facciamo perché è un sogno quello però per noi oggi l'importante è suonare dal vivo quindi quella è la cosa che noi vogliamo fare capito anche perché il vostro lavoro quindi nel senso c'è magari per me è proprio ecco sul caso di quello adesso siamo un po diversi perché per me suonare è la primissimissimissima cosa cioè per me qui c'è suonare che c'è lo studio no per quanto io sia un produttore scriva studio tutti i giorni scrivo cioè non però per me suonare è proprio la cosa più cioè la cosa massima anche perché ho iniziato a farlo e poi mi sono beccato qui il covid che mi ha perfetto veramente sti cazzi dei miei live però comunque adesso voglio farli e beh ci sta dai dopo tutto sto tempo da quanto è che non suonate voi precisamente da quanto è allora il tour mio dal 2020 è 20 prima è proprio prima del covid poi vabbè ho suonato in giro qualche cosa l'ho fatta adesso che sia stato suonato anche perché poi i rovere abbiamo scritto un pezzo insieme loro avevano anche loro il tour posticipato posticipato poi c'è entrato dentro anche il pezzo che abbiamo scritto insieme quindi sono andato a fare due date con loro ma cioè comunque non ho fatto tour miei quindi quella roba cioè noi vogliamo fare un tour anche lorenzo non suona lorenzo da tanto 2019 2018 addirittura ancora prima di te lui sì vabbè perché lui non pubblicando di c'è lui a livello di tour io parlo e poi dai dati che abbiamo fatte però di tour lui dal disco quindi credo 2019 una cosa così beh è arrivato il momento ragazzi io devo suonare perché non ce la faccio più voglio suonare senti mario l'ultima cosa che ti chiedo e poi ti lascio ti lascio vivere questa giornata tranquillamente riguarda il video perché al di là della canzone al di là di tutto il video di questa di questo nuovo singolo che avete fatto è un video che può essere d'ispirazione per molti perché effettivamente saltare nel vuoto fare questa esperienza io per esempio te lo dico sinceramente non l'avrei fatto perché ho paura di farlo però ecco vorrei che me la raccontassi perché magari ecco stimoli un po' anche a fare questa esperienza che è un po' diversa come come è stata per voi come l'avete vissuta allora ma è diversissimo anche qui c'è vedi quando ti dico proprio due strade lorenzo perché succede che lorenzo parla una sua amica che fa paracadutismo mi chiama e mi dice oh mi è venuta un'idea mi è venuta un'idea poi gli studi mi dice ci ripensi dice ci buttiamo dal paracadute io dico zio ma che dice ma 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 va cioè io ma 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 non è che cioè non è che io avevo rifiutato nella vita di fare questa cosa io non me l'ero mai chiesto perché era una cosa talmente lontana che ho detto ma non cioè non era mai entrata proprio nei miei pensieri quindi ho detto ma va ma va poi mi ha fatto vedere dei video io ho detto cavolo cioè ovviamente una bomba e io io quel giorno sono stato fregato e ho detto di sì me la sono vissuta malissimo quel sì me lo sono vissuto malissimo perché sono stato malissimo nei giorni prima non tanto per il paraca per il lancio cioè non è tanto la questione del paracadute cioè quello onestamente è una è tranquillo cioè non è che c'è possibilità di cose che non si aprono o figuriamoci la cosa che mi ha fatto stare male personalmente è che sapevo avevo la certezza che avrei provato in un momento sarei stato male cioè avrei avuto paura quindi era la certezza di provare un'emozione negativa quella certezza mi ha distrutto è come quando tu dici sai che alle undici e mezza per dire ti danno uno schiaffo no tu stai male perché sai che è sicuro che alle undici e mezza ti danno uno schiaffo però sai che sai che dal video in realtà non sembra questa cosa cioè dal video sembra esattamente l'opposto cioè che tu sia molto più tranquillo e invece lorenzo sia quello più agitato esatto il giorno del video cioè il giorno del lancio invece lorenzo tranquillissimo dai una bomba dai una bomba dai una bomba felicissimo casatizzo il giorno del lancio non si sa per quale motivo proprio totale inversione di questa cosa cioè tu considera che io no non ho dormito mi sono svegliato alle 5 del mattino senza sveglia mi sono imbottito Gavis con moment perché stavo malissimo non so per quale scienza la mattina poi arriviamo lì quando ci spiegano io mi tranquillizzo lui va nel totale panico e quindi abbiamo vissuto entrambi tutte e due le emozioni contrastanti poi il lancio è bellissimo è bellissimo sono 50 secondi di adrenalina e di no sono tanti eh non potrei farlo ma cioè 50 per me già 10 secondi sono tantissimi per una giostra di Disneyland pensa 50 sono tanti sono tanti 50 infatti cioè sono 50 secondi dove tu cadi cioè senza il paracaduto tu cadi proprio a picco poi dopo 50 secondi dopo che ti sei fatto due chilometri e mezzo in picchiata si apre il paracaduto cioè una roba folle però bellissima bellissima poi alla fine chi dei due esulta perché non riesco a capirlo perché alla fine del video c'è uno dei due che esulta che urla io ah sei tu va bene Mario che dirti grazie grazie mille per questa chiacchierata avrei voluto continuasse ancora per tanto tempo però purtroppo il tempo è quello che è sulle piattaforme che utilizziamo quindi insomma abbiamo detto comunque tutto abbiamo raccontato di questa canzone mi fa anche piacere questo ci tengo a sottolinearlo ti rubo gli ultimi secondi mi fa piacere che abbiamo anche analizzato dei temi molto molto importanti e magari chi sta guardando questa intervista capirà che fare iniziare un percorso è una cosa bella cioè non è per forza un qualcosa da vedere in maniera negativa ma è un percorso che si deve fare e che può sicuramente aiutare assolutamente assolutamente scusi se ti ho interrotto no vai 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 cioè ne abbiamo parlato poi anche in maniera tra virgolette leggera comunque assolutamente sono d'accordissimo c'è sempre tempo per approfondire questa cosa io sono sono stato per anni e poi chiudiamo chiudiamo sono stato per anni con la con con per esempio io ho sofferto per moltissimo tempo di ipocondria ne soffro ancora però facendomi aiutare ho fatto dei passi in avanti non ho risolto del tutto ma so fare dei passi in avanti cioè quello quello è già una vittoria per me capito quindi bisogna assolutamente combattere contro le proprie insicurezze contro le proprie ansie e non lasciarle mai vincere quella sarebbe quello è è come dire dare dare vittoria a pesi e a sconforti che ci teniamo che non ci fanno stare bene guarda in futuro cerchiamo di organizzarci visto che siamo tutti e tre siciliani cerchiamo di organizzare un incontro magari anche giù in Sicilia sarebbe sarebbe una cosa bella così ti lancio questa roba durante l'intervista vabbè volentieri poi magari con calma con calma ne parliamo magari quando uscirà il vostro album così se ci sarà se ci sarà io ci spero sempre Mameli grazie mille grazie mille per essere stato qui con noi noi ci sentiamo prestissimo e mi raccomando grazie mille quelli che state guardando l'intervista avete visto l'intervista andate ad ascoltare Testa per Aria di Mameli con Lorenzo Fragola grazie ancora grazie a tutti Grazie a tutti